Un comitato nato spontaneamente per dare supporto agli ex amministratori comunali di Rapino, destinatari di una sentenza di condanna per danno erariale che la Corte dei Conti ha stimato in 120.000 euro. A farne le spese sono Rocco Cocciaia, ex sindaco, Andrea Oliva, ex vice sindaco, e i consiglieri Sandrino Mascioli, Rocco Cocciaia e Rosanna Mamarella, nel frattempo deceduta. Secondo i rappresentanti del comitato pro ex amministratori di Rapino, si tratta di una condanna ingiusta, che va a colpire i cittadini che hanno agito nel bene della collettività. Al di là dell'aspetto puramente tecnico-giuridico, noi ci siamo costituiti come associazione spontanea con lo scopo di fornire un aiuto economico a degli amici che sono stati colpiti da una sventura vera e propria, perché durante l'espletamento del loro mandato non hanno approfittato mai assolutamente di denaro pubblico, anzi hanno dato il loro tempo e anche risorse economiche alla amministrazione e oggi si trovano costretti a dover risarcire delle ingenti somme semplicemente perché hanno dovuto prendere delle decisioni in tal senso. Per sostenere l'ex giunta di Rapino è stata aperta anche una raccolta fondi che vuole prestare soccorso a famiglie che oggi, dopo la sentenza della Corte dei Conti, si trovano a dover sborsare una somma astronomica di tasca propria. I fatti contestati sono due. Il primo riguarda l'affidamento a un professionista esterno di un incarico di responsabile tecnico, l'altro invece di un accordo transattivo del contenzioso Sciovie Mamma Rosa, comune di Rapino, per perdita di chance, avendo creato all'ente una perdita di occasioni favorevoli. Abbiamo aperto un conto corrente presso l'Agenzia di Rapino della nuova Carichietti con un codice IBAN, chiunque vuole può tranquillamente fare il proprio versamento nel rispetto di quello che ogni cittadino si sente di fare, senza limiti, senza vincoli. Anche la somma più piccola è benvenuta perché dimostra solidarietà.